bene a tutti ragazzi sono il valore del x1 e oggi giocheremo a minecraft è un gioco che ho visto un sacco di persone giocare quindi direi di iniziare anch'io ho già fatto una mappa e tutto quanto ho già fatto una casa per me e per x1 però devo ancora andare col server e tutto quanto quindi oggi ho giocato da solo però se volete scrivere i commenti se volete che giochi anche con la x1 o con il server e mettiamo un nuovo posto allegna me la tengo mettiamo una roba qua oh e ci sono dei zombie perfetto lo mettiamo a cucinare qua cosi almeno cosi almeno cosi almeno che balle di pieno che balle che balle che balle qui vi farò vedere la casa sia da fuori che da dentro però prima di andare a dormire perchè ah e che balle di figheno dai dove vediamo ah ciao bro ti a posto? ti a posto bro? ehi bro? diciamo diciamo festa pazza diciamo festa mi piace fare la festa apparentemente eh ma cosa stanno fuori perchè non posso dormire? me lo chiedo io perchè non posso che apposto? posso dormire ora? io voglio farmi dormire voglio dormire e che balle di fieno però per la spada mazzotti quantici esco il piano per Alex 1 c'è sempre questa fontana perchè da stile alla casa quindi mi piace più con le scale andiamo a prendere per il aspettate un attimo che non ho vita e quindi non voglio morire mi dà che moro ragazzi scommettete se morirò ora lo riesco a mettere si uè bro ciao bro ti a posto jump 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 saltare fa mettere paurezzo alla faccia ci stanno tre porco due mi odiano tutti quanti dentro dentro il bunker bunker antischeletri oh che vuoi guarda guarda sto pirla guarda questo pirla uè bro ti a posto bro voglio dormire in pace io voglio dormire in pace bitch oh giorno oh dio 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 brutta idea moro davanti di casa e non torno niente di male ammazzami bravo che bello ragazzo sono morto davanti casa e che lo so scherzo è merda eh guarda guarda cosa è una torcia vuoi morire con la torcia e te ammazzo con la torcia mettiamo dentro così almeno a fa un giro mettiamo una torcia già fatto ne hanno fatti solo 8 a fa un giro metto lo su venti qua dentro cioè brucia all'inferno e vuoi un'idea perché posso bruciare questa roba cioè non lo chiedo proprio perché la legna perché perché signorità mi voglio fare un'armatura di lingotti proprio di ferro di acciaio qui almeno c'è un'altra protezione quello che vorrei fare andiamo a farla cosa almeno ok pantaloni ce l'ho l'elmo idem va che mi manca mi rimancano mi rimancano un po' ancora però ho già almeno qualcosa ho preso delle frecce mi sono messo a posto ho già delle cose mi è rispita ah no già non faticico già un altro non è un blocco è un blocco è un blocco tentiamo di fare le scarpe lo sentiamo che c'è tutto almeno almeno qualcosa perfetto ne ho 16 posso dormire? ah al giorno prendi in modo vivo ma non mi faccio dormire mi hai fatto morire prendiamo una spada affichiamola qua i zombie zombie di mardo morite guarda l'inferno a voi chi vi ha fatto un croce io ti ammazzo da sopra ti ammazzo da sopra vabbè andiamoci ma io vado a me non si lancia la roba lo sai? è maledicazione anche se mi stai puntando a me lo che vuoi? alleluia devi schiattare schiattare hai capito? come si permette di rompermi le balle di fieno? cioè come si permette? eh lo so ragazzi i zombie e gli schiattare sono ormai educati quindi oggi vedete cosa possiamo trovare papapapapapapapapapapapam ah perfetto alla faccia di lamina e una due oggi miniamo perché a noi ci piace minare miniamo sempre di più perché a noi miniamo guardate che miniera non finisco più ma vado di farmi una miniera personale così in modo tale che posso proprio avere proprio una miniera dove sono diamanti tutto quanto qui va bene è comodo e non finisce più è finito e ora che faccio? sono una torcia qui oh mio dio ah quello che ho fatto io sto mi andiamo alla ricerca delle torce perdute alla ricerca delle torce perdute due i zoni di merda eh? riuscivo a andare da parte solito non a casa a meno sono ritornata a casa di nonna Pina luce della mattina effetto vitamina qua c'è da me uè che salto che salto ritorniamo a casa ciò che faccio pure cresce gli alberi qua vicino a me così a meno faccio c'ho proprio l'albero vicino a me così a meno ma appena riservo il padeppa mi cresce così a meno è comodo però non potrei fare neanche un po' di orto cioè proprio un orto se ce la faccio poi nel prossimo episodio ve lo vorrò vedere e facciamo un po' di bastoncini eh no ah vedo io farmi cosa vai vanno vanno di lanciare la roba perchè lanciare la roba lanciamo la roba e che cavolo e che cavolo e che cavolo e che cavolo vediamo un po' di ossa qui per il mio lupo allora ora voglio fare Flint and Steel per verbo ecco uso il favore delle fiamme non so se è il contrario o così però e infatti Flint and Steel andiamo a bruciare motherfucka i'm gonna burn you off No, ma no, ma no Non si evitava Mi serve l'acqua Bomba 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 Buongiorno, grazie, se è tutto Andiamo sotto a un nuovo video Bella, ragazzi Peace